Dove sono finiti la competenza e il merito? Oggi il criterio che seleziona i docenti è un altro, purtroppo, non si seleziona al personale per specifiche competenze, ma lo si fa all'ingresso fisicamente con il QR code che porta con sé. Questa è solo una parte della lettera scritta da Angelo Antonioni, docente di matematica e scienze da quasi 15 anni, attualmente in servizio alla Scuola Media Padalino di Fano. Il professore, che ha richiesto un mese di aspettativa, denuncia la scelta adottata dal governo che impone l'obbligo del passaporto verde anche per gli insegnanti e il personale scolastico. Qual è il suo umore e perché ha preso questa decisione? Allora, l'umore, diciamo, che uscilla tra il deluso, l'arrabbiato, il preoccupato, chiaramente, per la situazione che si sta vivendo in generale e anche a scuola, che ovviamente è uno specchio dell'attuale società. La mia decisione di, tra virgolette, prendermi un periodo di aspettativa è stata molto sofferta, ma credo necessaria per dare un minimo di coerenza anche ai ragazzi. Tornare a scuola il primo giorno e fare finta che vada tutto bene, ha proseguito il docente, non mi sembrava corretto e ho cercato di spiegarlo agli studenti anche con una lettera che ho inviato ad ognuno di loro. Quindi ha cercato anche di dargli uno spunto sul quale riflettere? Sì, è quello che cerchiamo di fare, che ho cercato di fare sempre anche in classe, cioè stimolare la discussione, stimolare lo spirito critico, il pensiero divergente e quindi non accettare per buono tutto quello che viene detto. D'altra parte ci sono tanti insegnanti, ci ha detto Angelo, che stanno affrontando le stesse difficoltà legate a quello che il docente non chiama Green Pass, ma un lascia passare, che divide i buoni dai cattivi, illegittimo, incostituzionale e privo di qualsiasi validità scientifica, ammesso, ha scritto il docente, che possa giustificare una simile discriminazione. Non posso entrare a prendere un foglio, non posso entrare a firmare niente, né tantomeno in classe a fare lezione. Quindi siamo arrivati al paradosso che un buon insegnante si distingue dalla vero o meno questo codice, adesso estremizzando un po' chiaramente. Però è preoccupante, specialmente in un ambiente dove la scuola, che dovrebbe essere proprio portavoce di inclusione, di integrazione, questa sorta di atriba, questa contrapposizione che stanno creando, tu sei vaccinato, tu non sei vaccinato, rischia di estendersi anche ai ragazzi. Ma per i ragazzi diventa motivo di esclusione ulteriore, creando ulteriore disagio e malessere in un periodo in cui di disagio e malessere ne hanno già tanto. Al termine di questo periodo di pausa, poi che cosa succederà? Allora, questa è una bella domanda, io ancora non lo so. Chiaramente il primo istinto è quello di rientrare a scuola perché mi manca molto. Mi manca molto le classi, i ragazzi, quindi potrebbe essere una possibilità. Spero che le cose evolvano un pochino al meglio, per cui magari questa possibilità si riesca a concretizzare prima possibile. Pensa però di vaccinarsi o di proseguire con i tamponi? Non lo so, però quello che io ribadisco fondamentalmente è il discorso proprio di libertà costituzionale. E di educazione in questo senso. Eh sì, parte tutto da lì, il fatto di dover essere, tra virgolette, ricattato per lavorare. Poi ognuno può trovare la sua strategia, che può essere un vaccino, può essere un tampone, però secondo me è a monte il discorso. E adesso, parlano di estenderlo anche ad altri settori, il fatto di essere, io uso tranquillamente questa parola, ricattato, perché se non hai quello tu non entri. Io credo che si chiami ricatto in italiano, insomma, se non sbaglio i termini, dovremmo cercare di scardinare e riflettere un pochino su questa cosa, secondo me. Grazie.